gentili telespettatori buona giornata è già finita sono già finite le lodi in diretta su salvini perché oggi quello che dice su salvini non è proprio simpatico perché il leader della lega apre sul blocco ai licenziamenti maletta dice è inaffidabile il segretario dem cioè Enrico Letta si mostra scettico davanti a quella che giudica l'ennesima giravolta e chiede serietà anche Provenzano che il vice di Letta dice la stessa cosa dice è la terza volta che cambia opinione prima dice sui licenziamenti no no al blocco poi sì al blocco poi no poi sì di nuovo pertanto Matteo Salvini in questi giorni tende una mano a Enrico Letta e si dichiara disponibile a cercare una soluzione sul blocco dei licenziamenti sapete che l'altro giorno Orlando modifica il introduce il blocco dei licenziamenti manda un email ma lo scoprono lui dice ma io l'ho detto a tutti con un email certificata ma nessuno aveva letto le email come è ovvio che fanno vabbè insomma il PD aveva cercato di prolungare in accordo con i sindacati il blocco dei licenziamenti e Salvini aveva detto no 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 assolutamente no non si può più più estendere il blocco dei licenziamenti però adesso cambia idea e dice no vorrei trovare con con Enrico Letta una soluzione un'apertura che Letta accoglie con cautela e dice e si mostra scettico davanti a quella che dice l'ennesima giravolta del capo della Lega però non chiude la porta dice ma confrontiamoci sul tema il nodo riguarda la scadenza del blocco attualmente fissata al 30 di giugno il PD con il ministro del lavoro Andrea Orlando avevano proposto una proroga al 28 di agosto proposta poi bocciata in consiglio di ministre anche dalla Lega da parte nostra spiega però dal partito di via Bellerio non c'è alcuna contrarietà alla proroga del blocco in assoluto ma riteniamo che questa vada accompagnata da misure di sostegno alle imprese come la cassa integrazione era lo stesso Salvini ad annunciare nelle scorse ore che avrebbe chiesto una tregua sui licenziamenti al presidente Carlo Bonomi presidente di Confindustria ma che il leader della Lega incontrerà appunto domani dal canto suo conferma la netta contrarietà degli industriali appunto Carlo Bonomi sulla possibilità di prorogare il blocco dei licenziamenti anche perché con il blocco dei licenziamenti l'azienda non è sollevata completamente nel pagare il dipendente è una parte paga lo stato il dipendente ma c'è una parte che continua a pagare l'azienda e l'azienda dice io ho qua 100 200 persone in più tu mi impedisci di licenziarle io che cosa gli faccio fare gli faccio spolverare il soffitto se non mi servono lavorativamente in più devo pagarne anche una percentuale adesso basta dice Confindustria ma secondo voi il governo non il governo ma lo stato italiano super indebitato ha già il reddito di cittadinanza ma come fa sta povera Italia a pagare anche i dipendenti tutti tutti ma come fa ma come si fa dai ma parliamoci chiaro eh ma poverini il blocco di lì cosa fai li mandi in mezzo a una strada e ho capito ma siamo in un libero mercato non siamo in un paese socialista di quelli lì dove eh non si può andare contro le leggi di mercato e bloccare i licenziamenti eventuali e lo stato paga tutti reddito di cittadinanza reddito di emergenza disoccupazione cassa integrazione blocco dei licenziamenti perché ma come fa l'Italia ma come fa vabbè a parte questo Salvini dice noi siamo convinti che si possa fare se lo stato aiuta i lavoratori prolungando le casse integrazioni emette finalmente regole al commercio online e fa pagare le tasse ad amazon google a tutte le altre multinazionali credo che la possibilità di evitare i licenziamenti ci sia dopo la visita al santuario di fatima il segretario della lega si è mostrato particolarmente dialogante nei confronti del pd ho capito volete tassare amazon o amazon come cavolo si chiama fatelo fatelo siamo i primi in europa facciamolo che draghi poi dica all'europa fate come noi tassiamo tutti queste multinazionali che vendono 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 macinano miliardi di euro e non pagano tasse fategliele pagare di cosa avete paura di che cosa avete paura volete mettere le tasse ma poi non vendono più nel nostro paese ma chi se ne frega ma chi se ne frega comincia un paese a fargli pagare le tasse poi tutti gli altri gliele fanno pagare che fanno chiudono piuttosto che pagare le tasse si metteranno a pagare le tasse e ma poi alzano i prezzi no non alzano i prezzi no è un po come quello che va e chiede scusi il preventivo quant'è 100 euro ok questi sono i dati per la fattura a no se c'è la fattura è più iva è ci deve mettere l'iva ok avete capito quindi amazon i prezzi che ha devono essere inclusi delle tasse solo che chi vende su amazon e su altre cose non paga o paga molto meno le tasse pochissimo perché chi dove sta scritto chi lo dice insomma dopo il covid dice c'è bisogno di lavoro unità serenità salute sviluppo poco tempo passato a litigare tanto tempo dedicato alla costruzione alla ricostruzione per me e per la legalità gli italiani vengono prima di tutto il lavoro sarà l'emergenza nei prossimi mesi imprese lavoratori tutti insieme e la politica meno litica e più si unisce più si unisce meglio e ha risposto a chi gli ha chiesto se volesse inviare un messaggio di pace a letta ma letta non è convinto non chiude le porte a salvini su di confrontarsi sul tema ma è scettico dice il fatto che salvini abbia già dato dimostrazione di essere un campione di giravolta e di celetta dal suo inedito europeismo alla nuova linea garantista inaugurata dalla lega dopo il cappio sventolato in aula il secondo elemento sta nel fatto che proprio mentre il partito democratico con il ministro del lavoro orlando si batteva in consiglio dei ministri ma che si batteva ma chi si batteva va beh è stato scoperto per prorogare il blocco di licenziamenti la lega sfilava lasciandolo da solo da solo il partito democratico e letta aggiunge con salvini siamo abituati a cambiamenti repentini giravolta e volta faccia per me la cosa principale è la nostra linearità quindi c'è di fatto mancanza di fiducia da parte del diletta per verso il capo della lega io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata arrivederci a tutti